Giacomo Capuano al quale chiederei subito cosa ti è piaciuto meno e cosa di più di questo Napoli stasera visto in Turchia? Ma di più sicuramente l'approccio alla gara, è stato un approccio giusto perché è vero che sicuramente l'avversario aveva tante assenze, anche la qualità inferiore rispetto al Napoli, però l'ambiente era molto caldo e c'era stata la questione comunque di Palermo dove la sconfitta comunque non era stata proprio, come dire, non era arrivata nel momento migliore dopo un ottimo periodo di quattro vittorie consecutive. Per cui l'approccio è stato assolutamente il migliore possibile per una gara del genere che ha sbloccato e ha tolto tutte le problematiche e poi dopo la prima rete di fatto non c'è stata più partita. Non mi è piaciuto forse una parte però, devo dire, non c'è una cosa in particolare che non mi sia piaciuta. In realtà nel secondo tempo è scesa un po' la squadra, però credo sia normale. Vinci così tanto in trasferta, partita chiusa, anzi, penso che anche lì questa sera il Napoli ha dato una buona dimostrazione di continuare a spingere nonostante il risultato sia stato messo in cassaforte presto. Ne parlavamo prima a microfoni spenti. Credi che dopo la prestazione di stasera, attraverso la quale comunque Andukar non è stato sollecitato, però comunque in un intervento è riuscito comunque a dimostrare una certa sicurezza. Credi che ci sia più di un problema adesso per Benitez nello scegliere il portiere? Sì, ma diciamo che Benitez come al solito in conferenza stampa rispetto a questo ha sentito, ha detto io voglio avere questo tipo di problemi. Secondo me è certo che non ci sono più le gerarchie, credo che Andukar possa avere delle buone possibilità di giocarsi un po' le sue carte, perché comunque l'ultimo errore di Rafael io penso non sia stato preso benissimo neanche nello spogliatoio, per cui probabilmente avrà la sua chance Andukar nelle prossime partite. Lo vedremo subito, già a partire con il Sassuolo. Questa sera, se dobbiamo giudicare la sua prova, chiaramente non è stato impegnato molto, però insomma per quel poco che abbiamo visto ha dato una buona sicurezza al reparto.